I maestri dell'Istituto Doloresetti Benvenuti Ben arrivati Li vedete come sono un po' imbarazzati Io poi sono un bastardo dentro su questo Sono un po' bastardo perché loro vengono da diverse realtà molto belle Dalla musica classica, c'è chi viene dalla musica leggera C'è chi non ama stare sotto i riflettori C'è chi non ama parlare ai microfoni E quindi questa sera fatemelo togliere questo sfizio Devo proprio rovinarli stasera Cioè loro tutto l'anno ne chiedono di cose Quindi stasera, Giussi io parto da qui Anzi no invertiamoci Guarda tu parti da questo lato e io parto dalle donne Da questa parte, via Eccolo qua Allora al tuo fianco hai Franco Arcangelo Chi è Franco Arcangelo? Lui è un maestro che sta con noi circa 12-13 anni È un grande compagno di viaggio Che non ha mai abbandonato questa nave E volevo ringraziarlo Ed era giusto farlo così Franco Perché altro modo non c'è se non dirti grazie Salve e buonasera Io veramente ringrazio Giuseppe Perché per avermi dato l'opportunità Di insegnare nella sua accademia Ho trovato veramente una famiglia Ho trovato dei collaboratori fantastici Ho trovato degli alunni strepitosi Perché c'è da dire che ogni qualvolta Si interagisce con i ragazzi Si conosce bene il loro modo di fare Il modo di vivere Perché c'è da dire che noi Docenti Dobbiamo essere degli educatori in primis Quindi cerchiamo in tutti i modi Di far crescere questi ragazzi Non solo artisticamente Ma anche dal verso e nel verso giusto Perché sappiamo bene che il nostro È un obiettivo Che noi dobbiamo togliere dalla strada I nostri ragazzi Perché al di fuori C'è tanta Malavita si dice E quindi dobbiamo fare in modo di Avvicinarli Avvicinare i ragazzi Sulle Cose positive della vita Che è in questo contesto la musica Quindi Io sono uno di quelli che ci sono Dall'inizio che è nato l'istituto L'ho visto crescere L'ho visto cambiare L'ho visto anche Modificarsi negli anni E migliorarsi Quindi Il applauso migliore Va ai miei docenti Ma in particolar modo Va ai ragazzi Quindi facciamo un grosso applauso A questi ragazzi Perché sono loro Che dimostreranno Che fare musica È la cosa migliore Buonasera a tutti Grazie Franco Qui al mio fianco Poi ho Giussi Giussi De Luca Lei Insieme alla Vocal Coach Cecilia Cesario Che è entrata in Scuderia da un po' di tempo Anche lei Realizza Quello che è il progetto Classe di Canto Moderno Lei è una grandissima Professionista Perché Lei non ha visto nascere L'istituto Donizzetti Lei ha visto nascere L'idea Di questa scuola Quando eravamo In A casa Da me In una piccola stanza Che avevamo allestito Per iniziare a creare Questo progetto Quindi parliamo Non del 2006 Ma parliamo ancora prima 2004 2003 2005 Lei aveva poi Una grande passione Una grande passione Che è quella Della letteratura È una grandissima Docente anche di lettere Insegna nelle scuole Sa Trasmettere Le emozioni E sa trasmettere Veramente tanto Ai ragazzi E sono stato felicissimo Che la nostra vita Poi si è Ricollegata nuovamente Anche all'attività Professionale E quindi Sta portando avanti Entrambi I suoi sogni Quindi di questo Io la ringrazio E la ringrazio soprattutto Per essermi a fianco Da diverso tempo Grazie Grazie Buonasera a tutti Grazie per le belle parole E anche Mi emozioni Quindi io poi Sono una che Ama parlare poco Che dire Sono soddisfatta Del lavoro Che abbiamo portato avanti Insieme al maestro Di canto lirico Franco Pino Che interverrà Tra poco E insieme alla Appunto Come citavi tu Alla grande artista Vocal coach Cecilia Cesario Quindi Diciamo Coadiuvati Quindi in questo Percorso Tutti insieme Nonostante Come Stavamo proprio Dicendo poco fa Fuori dal palco Sia stato un periodo Difficile Anche e soprattutto Per i ragazzi Che hanno risentito Della pandemia Quindi tutta una situazione Di limiti Di restrizioni Di paure No? Proprio in questo Stare insieme In questo condividere E credo che la musica E quello che voi Fate come istituto Noi facciamo E portiamo avanti Sia davvero la cura La musica È la cura di tutto La musica è vita La musica è arte La musica è tutto Quello che ci Ci dà forza Anche per uscire Dalle situazioni Più difficili Quindi Grazie Grazie a te Per quello che fai Grazie a tutti E passo la parola A un collega Sì Dall'altra parte Abbiamo Danilo Perticaro Lui è docente Di Sax Stasera ha fatto Una sorpresa a tutti Perché dovete sapere Che i nostri docenti Diversi di loro Fanno anche attività Concertistica Infatti Lorenzo Albanese Il docente di Fisarmonica Insieme ai colleghi Di chitarra E altri strumenti a fiato Stasera sono in giro Per dei concerti Con date già fissate Voi pensate Che questi concerti Sono stati rimandati Per due Tre volte Tre quattro date Quindi alcuni di questi Avevano anche delle penali Importanti E non potevano rinunciare A queste date Lui questa sera Però è riuscito A partire Da Roma Appena ha finito Un suo concerto Ed è venuto a sorpresa Qui Ecco questo è L'esempio di come Si sta vicino ai ragazzi Si vuole bene ai ragazzi E si vuole bene A questa scuola E Danilo è uno Che è entrato Da un po' di anni All'interno della scuola E sta già dando anche 10, 11, 12 anni Sembra semplice Ma non lo è Ad ogni lezione Diamo qualcosa E riceviamo qualcosa E riceviamo qualcosa Poi volevo dire Grazie ai genitori Che sostengono questi ragazzi Che ad oggi Non è per nulla scontato Con la nostra vita Che abbiamo ognuno di noi Dei ritmi Ormai Molto sostenuti Stare anche dietro A dire a un nostro figlio Studia 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 Non è per niente facile Quindi un grande applauso Ai genitori E poi a tutta la famiglia Dell'istituto Donizetti Grazie Graziella Calabro Invece Chi è? È una giovane pianista Su cui ho fatto una scommessa Insieme al mio direttore onorario Il maestro Antonella Barbarossa Che ringrazio Stasera non è qui Per impegni personali Ma è sempre vicino a noi E ha fortemente voluto Che Graziella Iniziasse questo percorso All'interno dell'istituto Donizetti Giovane Dinamica Una persona veramente forte Dalle mille idee Lei è stata una di quelle Che ha fatto accendere Soprattutto stasera I riflettori su Corigliano Rossano Perché ha detto Cogliamo l'attimo Dei genitori Che ci hanno invitato A portare il nostro concerto Il nostro tour a Rossano Perché abbiamo diversi ragazzi Che arrivano proprio Dalla bellissima Corigliano Rossano Sia la riurbana Rossano Che Corigliano Da Villa Piana Da Sibari Quindi avviciniamoci Anche un po' Alle famiglie Da Cosenza Salutiamo anche gli allievi di Cosenza Che segue anche Graziella Calabro Che sono presenti questa sera Non è stato facile Ripeto farli suonare tutti In un'unica serata Infatti abbiamo diviso Questa serata Con quella di ottobre Che sarà l'inizio Dell'anno accademico 2022-2023 Dove si esibiranno Il resto dei ragazzi Anche perché Diversi di loro Come mi diceva prima Giussi Per impegni Ecco anche di salute Questa sera Per il rispetto di tutti Non hanno preso parte Appositamente All'evento Ma gli mandiamo Un grosso bacio E un abbraccio A tutti quanti loro Ecco Lei è Graziella Calabro Appunto la nostra docente Di piano Grazie Graziella Perché anche lei Crede molto nella scuola Crede nei ragazzi Ha una voglia matta Di diffondere Quella che è stato Il suo sapere Per trasferirlo Realmente Senza inganno Senza tradimento Ai suoi allievi Questa è Graziella Calabro Rossanese Fra l'altro Buonasera Ringrazio innanzitutto Il pubblico Per essere qui stasera E ringrazio Il direttore Giuseppe Greco Per la fiducia Per la fiducia Che mi dà comunque Ogni giorno Perché essendo Alle prime armi Non è facile Trovare Lavoro Insomma Ringrazio comunque Anche i genitori Che mi danno fiducia Perché La musica Non è solo un hobby Perché richiede Fatica Ostinazione Richiede Davvero tanta voglia Di imparare E i ragazzi Dell'istituto Donizetti Ce l'hanno Ed è importante Trovare anche Dei docenti Che sappiano motivare I ragazzi Perché Ad ogni lezione Quello che dico Ai miei meravigliosi allievi Comunque Che Non devono avere paura Devono Studiare Devono andare avanti Devono Essere Intraprendenti E quindi Quello che voglio Dire Stasera È Grazie Alle famiglie E soprattutto Ai miei allievi Grazie Grazie a te Poi abbiamo Il maestro Franco Pino Il maestro Franco Pino Si occupa Della classe di canto Lirico È un tenore Affermato È un grande Professionista Ha Realizzato anche lui Diversi concerti Diverse tournee Importanti Ed è al nostro fianco Con un La cosa che mi affeziona A Franco È a sua moglie È alla bellissima Consuela La sua famiglia È che fanno musica Veramente dal più profondo Del cuore Non guardano In faccia nulla Guardano le note Ascoltano le note E guardano Quello che è uno show Quello che è uno spettacolo Con grande ammirazione Riescono a dare I giusti consigli Riesce a dare Sempre la sua Notina Come dire Di perfezione E particolare Per crescere In questi anni Siamo cresciuti Tantissimo Anche grazie al suo Apporto Il suo supporto Soprattutto Quindi grazie di vero cuore Ecco Franco Pino Grazie a te Giuseppe Per Intanto Buonasera a tutti Ti ringrazio Per Per queste belle parole Però il vero ringraziamento Qui Va a te Alla tua persona E all'impegno Che hai profuso Affinché L'istituto Donizetti Diventasse Davvero Un'istituzione Musicale Importante Sono davvero Orgoglioso E onorato Di far parte Di questa realtà Giuseppe Complimenti a te Complimenti A tutti i maestri A tutte le figure Che si stanno esibendo Questa sera Su questo palco E grazie Grazie a te di cuore Grazie a te Grazie a te